Musica Un cordiale saluto, buongiorno, ben ritrovati a tutti carissimi telespettatori di FanoTV e soprattutto buona vigilia di Natale, oggi è il 24 dicembre e siamo comunque qui pronti insieme a voi a tenervi compagnia in queste giornate di festa, in queste giornate speriamo per tutti di serenità, siamo qui per leggere i quotidiani come facciamo tutte le mattine e cominciamo allora dal, prima però, dal santo del giorno, vediamolo subito il santo del giorno oggi la chiesa ricorda i santi antenati di Gesù, da Davide in poi insomma, il sole è sorto alle 7.39 tramonterà alle 16.35, andiamo a vedere subito la telecamera esterna, guardate qua verrebbe quasi da recitare la poesia di Giosuè Carducci, San Martino, la nebbia con tutta questa nebbia agli irticolli che più vigilando sale, sotto il maestrale urla e biancheggia il mare e tanto per dire insomma, ci teniamo con questa poesia, questo brutto tempo perché di fatto sembra di stare in purgatorio, anche se ancora, però ecco, una cosa, vabbè la nebbia l'abbiamo già detto ieri, è questa, l'immagine è quella che inquadra, si intravede il Pincio di Fano, un'altra giornata così, così come sarà quella di domani, quella di domenica vedete le previsioni della protezione civile, avremo un cielo sereno poco nuvoloso per la giornata di Natale con nuvole basse al mattino sul settore settentrionale della regione, le temperature sono senza variazioni di rilievo i venti saranno deboli, come vedete sotto la voce fenomeni particolari, abbiamo foschie o nebbie durante le ore più fredde, quindi queste, poi per fortuna la nebbia si dissolve e quindi nelle ore più calde durante la giornata abbiamo, la nebbia si ritrae, va di nuovo verso il mare per poi ritornare nel pomeriggio ok, per il giorno di Santo Stefano invece è lo stesso, più o meno giornata, giornata forse con un po' meno di foschie ma sarà questo un po' il tempo, così come ce lo abbiamo e lo abbiamo visto, vissuto negli ultimi giorni ancora tempo stabile nelle Marche almeno fino alla prima metà della prossima settimana allora adesso andiamo a leggere i giornali, cominciamo dal resto del Carlino, la pagina di Fano apre con il pianeta scuola, il nodo dell'istituto agrario Cecchi l'agrario a Fano si può fare secondo Donatella Giuliani che è la dirigente dell'istituto durante l'ultimo open day, dice abbiamo registrato 400 presenze e 250 iscrizioni la possibilità di occupare spazi al di fuori del comune scatta se c'è il boom di richieste poi l'altra pagina invece si occupa dell'incontro che c'è stato alla fondazione Cassa di Risparmio di Fano un incontro al quale erano presenti naturalmente il presidente della fondazione Fabio Tombari ma c'era anche il vescovo e già di per sé questa foto è una notizia il vescovo Armando Trasarti, abbiamo ancora dice il presidente della fondazione abbiamo ancora 120 milioni, conferma gli impegni con il comune e con la curia c'è questo patto di cui parla il resto del Carlino questa mattina tra Tombari, Stefano Marcheggiani che è il vice sindaco e Armando Trasarti, il vescovo appunto un centro tra i progetti, un centro per i bambini autistici, una residenza protetta per anziani e il sostegno a Palazzo San Michele poi il resto del Carlino pubblica e ospita questa mattina anche gli auguri del vescovo per questo Natale Cristo viene a dirci che siamo tutti fratelli nel suo amore in occasione appunto del Natale Trasarti fa a tutti, credenti e non, gli auguri di buone feste ecco il messaggio che ha inviato alla comunità e che potrete leggere sul giornale questa mattina andiamo sulla pagina di Fossombrone invece per parlarvi di superstrada perché? Perché la superstrada ancora provoca disagi disagi da anni, oggetto di proteste, incurie, interruzioni, deviazioni, asfalto deteriorato gallerie buie tra il Furlo e Pontericcioli insomma questa volta c'è una nuova deviazione tra il bivio di Sant'Ippolito e l'uscita di Fossombrone qualcuno si domanda non si poteva evitare di fare questa deviazione a ridosso del Natale probabilmente sì, lo diciamo noi Urbania rubano pure i regali di Natale un furto in una bifamiliare erano per i bambini i proprietari dicono si vergognino perché evidentemente erano impacchettati erano lì con il fiocchetto quando i ladri sono entrati non hanno avuto nessuna remola insomma se non li sono presi e se li sono portati via eravamo tutti fuori, racconta il proprietario Stefano Marroncelli dice eravamo tutti fuori, fuori casa hanno sfondato la porta in pieno giorno e sono entrati hanno fatto razzia di tutto quello che c'era poi invece qui ci dobbiamo ricordare sempre di chi non sta bene durante le feste ma che non sta bene durante dobbiamo ricordarci anche di chi non sta bene durante tutto il resto dell'anno però bello questo gesto di Valentino Rossi che ha firmato una t-shirt, una maglietta e anche un cappellino ad un bambino, un ragazzino di 13 anni che è malato di cancro la dedica per Niki il guerriero meno reati, si sposa bene passando da una pagina all'altra qualcuno forse non sarà d'accordo con il prefetto di Pesor Urbino Luigi Pizzi ma questi sono i dati e lui evidentemente si attiene a quelli meno reati però sono in aumento le rapine facciamo tanta prevenzione, dice il prefetto abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi il tessuto sociale di Pesor Urbino della provincia è sano i reati denunciati sono scesi sotto quota 10.000 non emergono assolutamente infiltrazioni della criminalità organizzata e già questa è una buona notizia se vogliamo sul fatto che i reati denunciati sono scesi sotto quota 10.000 bisogna vedere che tipo di reati perché poi spesso molti non li denunciano più nemmeno perché tanto dicono c'è niente da fare in calo invece in termini assoluti i furti più pericolosi ma sempre più spesso con vittime presenti in casa e di questo abbiamo avuto modo di parlarne abbondantemente nel corso dell'anno due importanti appalti del TAP a Renco Spa Renco Spa ed Enereco di Fano per quanto riguarda il gasdotto adriatico la ditta pesarese realizzerà la centralina di arrivo la ditta fanese la posa in opera di 8 km di tubature per 15 milioni dunque in un momento difficile certamente due appalti importanti di ingegneria legata alla Trans Adriatic People Line daranno un po' di respiro a questa economia all'economia della provincia sono stati conquistati in appalti di carattere internazionale da due appunto importanti aziende del settore oil e gas del nostro territorio e abbiamo detto appunto di quali aziende si tratta andiamo e cambiamo giornale adesso invece apriamo la pagina di Fano del Corriere Adriatico in evidenza città smart e green quindi piccole e verdi ecco le linee Paolini presenta in consiglio l'atto di indirizzo per la revisione del piano regolatore generale nessun no i 5 stelle dicono non rispetta la promessa di non consumare il territorio e tutte le minoranze si astengono poi Trasarti il Vescovo Natale tra amore e cura civica il presule si rivolge ai fedeli del territorio invitandoli a vivere la verità del Vangelo domani come sempre fa nel giorno di Natale andrà a visitare i carcerati andrà probabilmente a Fossombrone Tombari saldo alla fondazione il consenso di comune diocesi auguri alla città meno felici per la perdita di 45 milioni nella banca delle marche Aset invece Aset è un'eccellenza per la Presidente Lucia Capodaglia un'eccellenza nazionale l'orgoglio della Presidente conciliamo i tempi di lavoro e della famiglia aumenta la produzione e diminuiscono i costi in 11 dei 13 comuni serviti la differenziata va oltre il 70% Poi Omiccioli rileva un diverso clima politico l'opposizione non fa più un fronte comune per il capogruppo 5 Stelle alcune critiche hanno toccato anche chi amministrava prima di Seri Tanti fondi per ambiente e territorio Sinistra Unita sottolinea risultati e annuncia che quanto fatto però non basta Per quanto riguarda invece la delibera che ha autorizzato la concessione della casa occupata fino a qualche giorno fa stiamo parlando della casa dei Grisli per Pollegioni di Fratelli d'Italia la delibera è illegittima Adesso andiamo invece sull'altra pagina del Corriere Adriatico per questo presepe prese paese presepe paese con 160 figuranti a Mondolfo sabato e domenica la più grande rappresentazione adriatica della natività troverete poi tutti nel castello alla luce delle fiaccole gli antichi mestieri e la mangiatoria di Gesù replica con immagini invece il 6 di gennaio troverete dicevo tutti tutti i riferimenti per poter partecipare e vedere questo questo presepe calano i furti dicevamo anche qui il Corriere Adriatico questa mattina giustamente fa il resoconto che è stato presentato in prefettura calano i furti ma aumentano le rapine reati complessivi in provincia diminuiti del 13% le razzie in casa del 19% in controtendenza invece Urbino la città feltresca sprovvista di misure passive l'uso della violenza è cresciuto dell'11% gli incendi del 5% e allora andiamo sulla pagina del Corriere di Urbino Sgarbi si è dimesso solo sui giornali il sindaco Gambini dice non ho ricevuto alcuna sua lettera eventualmente farà il consulente secondo il sindaco la maggioranza si rafforza senza Carrabs cercava dice compensazioni in regione andiamo sul messaggero adesso prendiamo la pagina principale dove naturalmente c'è anche questo urlo liberatorio di uno dei giocatori della VL stiamo parlando evidentemente del basket perché ieri è stata da urlo la VL perché ha battuto Milano in una bella partita 69-66 la corazzata Armani di Milano la squadra milanese quindi una VL che si fa sicuramente si è fatto un bel regalo di Natale a lei in primis e poi a tutti i tifosi tanti tifosi pesaresi del basket 30 milioni da spendere subito bel regalo anche per il sindaco Ricci che ha sbloccato questo patto di stabilità l'obiettivo dice il sindaco Ricci è storico andranno e partiranno un sacco di lavori lunedì i bandi per ristrutturare l'ex tribunale e l'hangar di via dei partigiani poi sotto invece anche qui sul messaggero aumentano i furti in casa in presenza degli inquilini ma il dato dei reati complessivi è in calo i dati sono stati illustrati dal prefetto mentre continua la caccia alla piromane che l'altra notte l'altra sera intorno alle 10 e mezzo di sera ha dato fuoco a dei motorini davanti alla sede della scuola guida Bassani di Pesaro mentre sotto i due punti caldi di Andrea Del Vecchio stiamo parlando di Erdorica i due punti caldi del Vecchio per l'aeroporto il nuovo amministratore delegato dice chiudere i debiti per il bilancio dello scalo e procedere con la privatizzazione poi come dicevamo sul tempo anche il meteorologo del messaggero conferma per le feste avremo tempo stabile allora c'è invece un po' di pensieri ci sono un po' di pensieri per il governatore pesarese della regione Marche Luca Ceriscioli soprattutto sul fronte della maternità anche i sindaci del PD sono contro di lui PD nebollizione comi dice no avanti Ceriscioli a Fabriano si sospendono dal partito Pugnaloni difida ai medici del reparto l'annuncio rimarranno solo sette punti di nascita il segretario parla di riforme utili e dunque Ceriscioli va sostenuto poi sulla ecco dicevamo di questo regalo di Natale da 30 milioni di lavori per la città di Pesaro il sindaco ha scelto gli uffici opere pubbliche per fare gli auguri ai dipendenti vi ho torchiato ma era necessario ha detto loro grazie per avermi sopportato patto di stabilità dunque come dicevamo sbloccati e partono dunque i lavori concerto in piazza aspettando San Silvestro sempre a Pesaro per il 26 dicembre ingresso gratuito alla pista di patinaggio per chi si chiama Stefano o Stefania quindi anche questa è una iniziativa se vogliamo singolare carina anche per attirare certamente visitatori e frequentatori andiamo allora andiamo sull'altra pagina del messaggero eccola qua vedete l'albero che l'albero di Urbino quello su cui si sta dibattendo da ormai giorni e giorni e giorni il sindaco dice c'è chi ha strumentalizzato l'albero questa situazione è stata usata da parte dei verdi che tra l'altro dovrebbero essere anche contenti perché non è un albero vero e quindi vabbè a parte queste cose comunque non è più in maggioranza è chi insinua cose inesistenti però a leggere questo articolo e chi legge i quotidiani abitualmente leggendo questo problema dell'albero da dieci giorni probabilmente sta già pensando di trasferirsi ad Urbino perché evidentemente Urbino si sta bene non c'è la criminalità c'è tanto lavoro tutti stanno bene e non c'è nessun problema perché se il problema principale è l'albero vuol dire che tutto il resto non esiste e quindi tutti gli altri problemi non ci sono e quindi bisognerà andare tutti a Urbino a questo punto visto che si parla solo dell'albero e non di altro mentre dalla pagina di Fano eccola qua la pagina principale il titolo principale scusate Agraria può aprire a Fano perché è stata autorizzata dalla regione ora l'istituto Cecchi quindi l'istituto agrario è pronto per l'avvio nella succursale dell'istituto tecnico commerciale significa che cosa significa significa offrire agli studenti fanesi una più ampia disponibilità di scelta poi invece qua Fondazione Carifano meno opere pubbliche ma si pensa ad un centro per bimbi autistici utilizzando propri spazi tornando sul discorso del Cecchi vedete qua Minardi sono molto soddisfatto ha detto di questo risultato che premia il lavoro che è stato svolto in aula poi si parla anche del messaggio del Vescovo dedicato alla speranza e sotto invece sul depuratore di Ponte Sasso al via i lavori la presidente di Aset Capodagli dice con 212 dipendenti Aset Spa è un'eccellenza nazionale Allora la resegna stampa finisce qui sono le 7.48 per chi ci segue in diretta e dunque a me non resta altro che augurarvi una buona vigilia di Natale e un buon Santo Natale noi ci rivedremo domani mattina ci rivedremo domani mattina per gli auguri i consueti auguri dalle 9.30 alle 10.30 quest'anno come ho già detto ieri ci sarà una novità quindi seguiteci speriamo di trascorrere domani mattina una bella mattinata di Natale insieme una parte della mattinata di Natale un'oretta insieme a voi quindi se volete fare gli auguri se volete inviare i vostri auguri potete farlo anche già da subito i riferimenti li conoscete il 338 4968250 oppure potete mandarci gli auguri attraverso l'email a redazione chiocciola occhiolanotizia.it oppure domani mattina potete chiamare in diretta all'861433 non mi rimane altro che rinnovare questi auguri anche da parte di tutta la redazione da parte di tutti i collaboratori di FanoTV tra l'altro questo Natale coincide con il decimo anno di fondazione di FanoTV era il 2005 quando il 19 dicembre alle 8 di sera abbiamo acceso per la prima volta il segnale un po' di strada l'abbiamo fatta con l'aiuto di Dio speriamo di farne tanta altra grazie arrivederci grazie a tutti Grazie a tutti.